Una battaglia continua quella delle donne contro la cellulite e si sa, se vogliamo una pelle liscia e morbida come la seta, dobbiamo anche metterci di impegno. E tra le regole d'oro ricordiamo bere tanti tanti liquidi, in particolare acqua, almeno 2 litri al giorno. Poi vi è libera succhi di frutta fatti in casa, centri fugati, frullati antiossidanti, frullati depurativi, tè e tisane. In particolare vi consiglio di utilizzare centella asiatica e mirtillo nero in grado di stimolare il microcircolo e di rafforzare la parete dei capillari. Mi raccomando poi di fare tanto tanto sport, magari insieme a qualche bella sauna per eliminare tutte le tossine. Mi raccomando anche di limitare alcuni cibi ricchi di sale, ricchi di zuccheri e chiaramente le bibite gasate. E oggi vi do un consiglio, vediamo come preparare il frullato anticellulite. Per preparare il frullato anticellulite abbiamo bisogno di 150 g di mirtilli neri 150 g di ananas fresco 200 g di polpa di pompelmo rosa 150 g di fragole Qualche cubetto di ghiaccio Qualche cenno teorico per capire il perché questo frullato si può definire anticellulite. Ho scelto tutta la frutta ricca di acido citrico, quindi di vitamina C e poi in particolare ho scelto anche i mirtilli neri che vanno benissimo per contrastare la cellulite perché vanno a stimolare il microcircolo e a rafforzare la parete dei capillari sanguigni. Poi troviamo le fragole, anche queste ricche di vitamina C e il pompelmo rosa poi i lamponi che esercitano delle proprietà vitaminizzanti, antiossidanti e antinfiammatorie e poi ho scelto anche l'ananas che, oltre ad essere ricca di vitamina C, esercita proprietà diuretiche e depurative e adesso prepariamolo insieme. Iniziamo a sistemare la prima fonte di vitamina C il pompelmo rosa quindi l'ho tagliato a metà, adesso tolgo la scorza sul vivo togliete anche l'albedo, quindi la parte bianca che potrebbe essere un pochino amarotica, ok? Ho così versato la polpa di pompelmo all'interno di un frullatore a bicchiere e adesso mi sto sistemando l'ananas fresco quindi ho tolto il ciuffo e ho la fetta ananas abbiamo già visto in un mio video precedente come pulire perfettamente l'ananas e adesso rifacciamo la stessa operazione Ho così calcolato 150 g di ananas fresco adesso posso anche versare il nostro ananas all'interno del frullatore e adesso non ci resta che unire anche tutta l'altra frutta ovvero i lamponi i mirtilli e le fragole tagliate a pezzetti io vi consiglio anche di aggiungere qualche cubetto di ghiaccio per evitare il surriscaldamento dei principi attivi e adesso frulliamo e questo è il risultato io vi consiglio di consumarlo immediatamente e ricordatevi che in un frullato anticellulite oltre a mescolare una buona dose di ingredienti antiossidanti dovrete anche frullare un bel po' di sport e se al binomio alimentazione ed esercizio fisico aggiungete anche una buona crema anticellulite da applicare nella zona da combattere sono sicura che il vostro obiettivo potrà essere raggiunto in tempi molto brevi grazie a tutti grazie a tutti